Ciao a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di ORIGIS secondo capitolo Vini siamo qua perché voglio assolutamente prendere sta cosa Sti denti qui sono qui tanti aia Porca miserica Allora facciamo così poi facciamo così e così e tanti saluti Poi facciamo così e poi ci facciamo giocchiare perché insomma si Oh fly Bene sono contento adesso dobbiamo andare di qua E vedere dove arrivare lassù Aiaia botta da panico Ok facciamo così poi così Ce l'ho fatta per davvero Ciò di non farcela salve lei li ho tutti Oh ma che gioia inalata E così siamo anche di là ma io devo andare anche di qua Poi devo andare là ma quante cose devo fare Tante Le faremo tutte Spero che mi dia la possibilità al gioco di farle Però dai Fate questo Salvele astuto salve già Botta da panico mi ha dato Si donna ma per l'altro signore Eh me l'ha dato anche lui però Non si fa così Guarda E' la magera Porca vacca Co Prenda Eccola qui Ehm Ok Facciamo così va che è meglio Ho visto che c'è Al mio foglio là sopra lo vado a prendere Ok Come ci rendiamo là sopra Facciamo così 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 E col cazzo va risposto Nonostante tutto Non ci riesco Che mi mancherà per fare una roba del genere Ve lo chiedo Perché noi in effetti ci manca uno slancio in più Che non so esattamente come prenderlo Lo slancio eh Oh salve Lei non mi piace per un cazzo sa Ho capito Oh salve Ho capizionato Tu mi devi seguire Bravo bravo Eh cazzo Adesso sarà dura C'era molto dura Salve Lei è molto bravo sa a seguirmi Eccoci qui Poi eccoci qui No porca vacca Devo essere più lento Non mi fa bravo Ecco qua Guarda qua Ma qualche miseria Che c'è lui sul slancio Che è incredibile Vai pipipipi Guarda qui Ma no così Allora Andiamo su Veloci veloci Ci deve seguire Ci deve seguire Ma che palle Insomma Non ci seguo Come devo fare Io non ci seguo Qui qua qua Eh no Non capisco C'è qualcosa che non mi inquatra Qui Così Ok Bra 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 Eccolo qua Stai vi la faccio da Non è difficile Dai Non lo metto a capire Quando si capiscono le cose Non si è sempre facile Eh ma tu sei brutto e cattivo Non si fa così Allora si tiene una bella Martellata Anche un'altra Va finificata di qua di là E siamo tutti a posto Ok Anche lei scusi Santo Tutto giudo Mi piace per un cazzo Oh ma chi c'è Oh santa miserica Un altro Vai Ma ce l'ho fatto lo stesso Dai Mi sono massacrato Però ce l'ho fatta Uno Due Tre E poi così Oh Oh Interessanto Quindi dobbiamo andare di là Però cosa ho mai visto io Aspetta il sbagliato Ma mi sono confusionato Allora Vai Ok Fatto E questo almeno ce l'aveva fatto Poi Facciamo così Che non ci sia mai Devo andare di là Così sai Di personale Ok Così E così Poi Per capire come andarla Riuscirò a capirlo Sono abbastanza sicuro Che ce la potrò farcela Però Non adesso Aia Botta da panico Perché la mi salta come deve A volte si blocca Aia C'ho usato Più sulle spine Un male Culletto Niente Per il mento Non ne ho idea Di come arrivarci Sembra proprio Che mi manchi Un'abilità Non so quale Devo scoprirlo Salve Questa come ci arrivo qui Questa non è chiara Se devo essere sincera Ma invece È molto chiara Salve Non mi piace più il cazzo Qua qua guardi Buttigio qua Buttigio qua Ezza Ci senti a lei E no È di qua È di qua È di qua È forca miserica È uscione Mettere questa Della miserica E insomma Me lo si cazzo Però insomma Non si fa così Allora Aia Aia Non mi ricordo più dove ero Se devo essere sincero Ero in pazienza Dopo guardo il video Perché è proprio Ehm Sto pensando Sto pensando Potrei anche Andar di là Adesso Ginnatico È molto bello Sa Si fa male Che confuso Martello Allora Andiamo di là Perché voglio Avvenire tutto io Perfetto Andiamo Di sotto Perché dopo Una volta che andiamo Andiamo più lì Porca miseria Porca miseria Ok Questo l'abbiamo già visto E non ci siamo Oh salve C'è tanto il botte Lei lo sa Accidenti Oh Preso Sento che qua Ce n'è di roba E noi dobbiamo arrivare A 3000 4000 Scusate Poi Di qua Ci siamo Di qua Ah qui era quel famoso Posto Che non c'ho Capito No bene Merita Mazza Ok Eh Non ci arrivo Abbastanza Eh Ci sono arrivato Abbastanza Ecco il problema Non ci arrivo Abbastanza Da Riuscire A farlo Prenderlo Abbastanza 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 Allora Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Prenesia Ha tenuto un nuovo frammento spirituale I nemici si rigenerano più velocemente Prenesia I nemici si rigenerano più velocemente Potrebbe essere anche una cosa buona a volte Adesso poi mi metto lo salto là dietro Da qua Vediamo un po' Ok No no signora Signora non faccia così Mi devo rifare tutto da capo Che miseria Ok Oh cavoli Anzi sai cosa vi dico Per non rischiare vado qui a salvo Perché Mi fa tutto da capo Mi viene un infarto Vediamo un po' Ne basta la pena però È stato difficile Ma ne basta la pena Ok Adesso dobbiamo andare di sopra Lì non so come andarci Se devo essere sincero Ho perso uno di quei frammenti Porca miseria Mi ricordo più dove ero morto E niente Ah ecco perché non me lo davo lo slancio Sbaglio la pulsante Eh ma purtroppo La vecchiaia è così brutta Non invecchiate mai Allora Siamo a 4.000 Non mai li fa menti Io voglio andare a prendere con la mappa Così mi la tolgo Debroni Insomma po' È perché ho paura che mi dia un'altra mappa Che pizze Le mappe Che possono tocco Eh no Siamo ancora a 4.000 Allora Vediamo un pochino Devo andare di là In salivo Ovviamente ho fatto il pirla E adesso me lo tengo La pirlaggine che ho Me la tengo Vediamoci qua Perfetto Allora Perfettico Sbagliato Ecco qua E questa è andata Poi Andiamo di qua Era qua Mi sembra Quel pezzo Tac Che dicevo Il corte della corte Il corte Non ci ho sbagliato Una botta da panico Ma mi sembrava più vicino Qua esatto Non so proprio come fare E qua Soprattutto Quindi lei Non può rompere i baroni Sa Eccoci qua Non è caso che Continuerò a proteggere le palle Bravo Continua così Allora Devo farmi seguire da quel coso Cioè Non è cosa Semplice Semplice Eccolo qui Vai 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 Bravo bravo No Non ha capito un cazzo Della vita Questo Seguimi Qua Perfetto Tutto Tutto procede per il verso giusto E abbiamo preso anche questa Oh 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 Mamma mi stavo vorrei Mi sono aspirato il mondo Oh Cavoli Che cosa gradita Poi Andiamo giù Vai Perfetto Se c'è quello Vuol dire che c'è un motivo Aia Se c'è quello c'è un motivo Ecco il motivo Salve Dove venire qui Grazie Ecco qua È stato molto gentile E cortese A fermarsi lì Per me Ok Siamo a posto Ah io ho preso una botta da fare Eh ma insomma Non si fa così Eccoci Hola Ok Ok Non so cosa sia Andata Ok Venga signore No Non rimanga lì Che così per me è più difficile Venga di qua Eh sì Che è dato lì Mi piace tantissimo Ma porca vacca Porca miseria Ci toghe le coglioni Gentilmente Non è che voglia essere Sempre Sto tese Però insomma Eccoci qua Ok Eh lo so Purtroppo Non potevo far diverso C'è qualcosa da su Ma mi vogliono Proprio male a me Non c'è Non lo vedo Ah Sbagliato Ah è di là Ah ho visto adesso Fly Due addirittura Mi vogliono tanto tanto male Queste persone Gli nemici si rigenerano più in fretta Proviamo Questo cos'era Pg20% no I nemici rilassano più sfere No Facciamo così Si rigenerano più in fretta Speriamo Speriamo Si rigenerano una moscia Che mi serve Quello lì qua Insomma E si muore Tanto facciamo così Che non fa malo Ok Si rigenerano più Tanto che lui Si rigenerà Io vado a fare un gietto Qua Vediamo che cazzo Succede Ecco Bello Mi piace Vediamo qua Oh salvele Non mi piace più un cazzo Invece Questo mi piace tanto Devo capire Quello che mi deve seguire Ahia È l'ora Esattamente dove deve andare Insomma Io devo seguire così Per lo fammi prendere Dalla falla Veloce In modo Che proprio È svolgente Ok Ok Non ho capito Quello che mi deve seguire Deve andare Oh Di qua Quando ci arrivo Ma Quello cazzo Proprio Guardate qua Oh salve Buti 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 Cazzo Ecco Mi ha ucciso Che cosa Credite C'è una Inaspettata Adesso Dittemi Dove cazzo Oh Cosa c'è Il risultato Il seme Porca miseria Per poco Quel seme Mi interessa Parecchio Il seme Del tipo E chiedo Chiedo come Possa In qualche modo Riuscirci Non ce l'ho fatta Per poco Poi Palle Un bel problema Questo Dai Tira La palla Ma non mi fa saltare Da lì Questo era buono Se potessi andare Se potessi andare di qua Oh ma c'è un save Oh che cosa gradita Scusate ci ho messo un po' Ma sono prove che bisogna fare E comunque bisogna andare di là Dove essere un modo Che a me mi sfugge Che a me mi sfugge Allora niente Andiamo all'altra parte C'è anche un frammento Lì C'è Lì proprio c'è qualcosa Che non mi quadro E poi lì si scende Quindi Vorrei andarci Grazie E vabbè Ho fatto la peccata mia Ecco Adesso abbiamo visto Che si scende Non si fa un cazzo Che senso ho avuto Ma non lo so Va bene Niente Andiamo via Perché non ci posso fare un cazzo Non ci posso fare un cazzo Scusate Ho dovuto fare un po' Di prove Dai Mi spiaceva Andare via così Ok Ok Aspettate Fatemi capire Cosa devo fare Allora Prima di tutto Ah non mi fai Rigenerare Ok Ok Bene Eh Là sopra Là sopra Bene Si è rigenerato Ok Uno è preso Ah qui non c'era niente Ok Queste si rigenerano molto in fretta adesso Vedete Perfetto Perfetto L'ho preso Dai sono contento Adesso io me la filerei Me la filerei di gusto proprio Ma Se facessi una cosa così Così sarei più sicuro Perché non ho voglia di rischiare Di fatto tutto da capo E siamo a posto Bene Dai ragazzi ci possiamo Anche soltare qua Così a meno abbiamo fatto un po' di cacate Perché sono fatto salti di tutti i tipi Insomma ce l'ho fatta Questa è l'importante Eh mi manca questa E mi sta proprio Proprio tipatica Adesso provo off camera Se la faccio accendo E poi vado anche qua Eh stavo guardando a cosa manca Effettivamente Qui dice che abbiamo fatto il 81% Ma io qua non so andarci C'è un modo ma mi sfugge Di solito lo trovo sempre il modo Ma Anche se è astruso Poi ancora qua C'è qua che non riesco ad andarci Grazie all'albero Ma è qui l'albero E qua posso provare Ah c'è il tipo Quello che Ci attacca Sono sicuro che ci sono vari modi Per fare le cose Però Sto secondo Qua voglio andarci Perché tutto grigio Dai Ci sono due o tre posti Adesso ci andremo Quindi ragazzi Come a solito Vi invito alla saluta Ecco il commento Se vi piace Se vi sapete cosa pensate Per il resto Vi saluto Ciao ciao